Sì, i successi ci fanno piacere, ma noi sappiamo che siamo sempre a valutare la crescita dei ragazzi, che c'è stata, siamo contenti, una crescita sia tecnica, ma soprattutto di mentalità, perché approcciarsi a questo girone è stato proprio un allenamento a un calcio molto complicato, con un avversario con grandi doti e siamo stati dentro la partita sempre, ora alcune le abbiamo vinte, alcune abbiamo lasciato dei punti anche immeritatamente. Si dice sempre, mister, che all'allenatore piace tanto quando la squadra va a esprimere il calcio che esprime in casa, anche in trasferte, forse questa è una delle vittorie più grandi dell'ultimo mese? Assolutamente sì, i ragazzi si sono fidati dei principi di gioco che gli abbiamo proposto, siamo andati a Torino molto organizzati, con una pressione molto organizzata, siamo riusciti a fare nostra la partita, una partita difficile, voglio ricordare che il Torino, secondo me, nonostante zero punti, è la squadra che gioca meglio a calcio del girone, e voglio ricordare anche che il Genoa siamo stati l'unica squadra del girone a battere, neanche la Juventus si è abbattuti, ci ha un po' rallentato il momento della quarantena, ma questo sappiamo che è stato un anno particolare e abbiamo dovuto recuperare le partite tutte in dieci giorni. E adesso arriva la Juve, una partita che penso anche per il blasone, per quello che la Juve rappresenta, si prepari da sé, sarebbe una bella ciliegina sulla torta. Sì, la Juve, tutti gli addetti ai lavori sanno che l'Under 17 di quest'anno è una squadra stratosferica, dove hanno investito tantissimo, tanto che tre o quattro spesso vanno in primavera, giocano titolare, sono primi in classifica in primavera, è chiaro che noi faremo il massimo e ci crediamo, ci speriamo, i ragazzi sognano questa partita, che comunque è una bella vetrina e comunque ci arriviamo anche psicologicamente con l'autostima abbastanza alta. Sì, è stata una grandissima vittoria, soprattutto di squadra, perché abbiamo cercato di giocare a calcio in un campo non facile, come quello del Torino, e siamo riusciti a portare via tre punti molto importanti. Che cosa vuol dire per te fare gol e soprattutto fare gol così importanti che consentono alla squadra di fare dei punti? Per me vuol dire tanto, anche perché essendo un attaccante i gol servono, però sono soprattutto felice per la squadra, per essere riusciti a portare a casa i tre punti. Cosa ti sta dando l'Entella per il tuo percorso di crescita? Tu tra l'altro vivi il convitto, quindi stai conoscendo un po' tutta la macchina organizzativa dell'Entella che ti sta dando una mano a crescere sia in campo che fuori al campo. Devo tanto a l'Entella perché mi sta dando l'opportunità di crescere e di inseguire il mio sogno. Mi trovo bene a Chiavari, sto bene, in convitto ci trattano bene e spero un giorno di poter realizzare il mio sogno. Adesso domenica arriva la Juve. Domenica arriva la Juve, è una gara difficile e speriamo di fare una buona gara e soprattutto di tirare fuori un buon risultato.